Con decreto siglato dagli assessori regionali per le autonomie locali e la funzione pubblica e per l'economia rispettivamente, Andrea Barbaro Messina e Marco Falcone, è stata approvata la distribuzione di fondi ai comuni siciliani nei quali insistono siti patrimonio dell'UNESCO o con territori facenti parte dei geoparchi UNESCO. Sono sette i siti UNESCO presenti in Sicilia, dalla villa romana del Casale situata a piazza Armerina all'area archeologica di Agrigento, passando per le isole Olie, le città tardobarocche della Val di Noto, Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica, il Monte Etna, ma anche Palermo Arabo-Norman e le cattedrali di Cefalù e Monreale. Ad essi si aggiungono i due geoparchi, ovvero il Parco delle Madonie e il Parco Rocca di Cerere. 67 in tutto i comuni destinatari del contributo complessivo di 2.500.000 euro, ripartito per il 70% in parti uguali fra tutti i beneficiari e per il 30% in base alla popolazione dei singoli comuni. Risorse che potranno quindi essere impiegate per la valorizzazione del territorio. Nell'elenco dei 67 i 20 comuni catanesi del Parco dell'Etna, tra i quali figurano Adrano, che si vede assegnare oltre 40.000 euro, Belpasso quasi 38.000 euro, Biancavilla oltre 35.000 euro, Bronte oltre 33.000 euro. A Ragalna è stato destinato un contributo di oltre 27.000 euro, a Monta a più di 30.000 euro, l'importo attribuito a Randazzo, Santa Maria di Licodia, si vede invece assegnare oltre 29.000 euro.